Ciao a tutti ragazzi di coci sul mio canale, io sono Francea e oggi siamo tornati su Life is Strange così possiamo continuare l'avventura di Max e vedere come andrà avanti. Iniziamo! Ok, eravamo rimasti che dovevamo controllare il camper di Frank. È bloccato. E dobbiamo cercare di distrarre Frank il più possibile. Ma cosa sta cercando nella pattumiera? Che schifo! Messaggio dal padre. Maxi, sono papà, mi dispiace non essermi fatto sentire prima. Tua madre è molto fiera di te per aver salvato quella ragazza, lo sono anch'io. Sapevamo che mandarti alla Blackwell era la cosa migliore che potevamo fare. È un orgoglio leggere di te sul giornale o vedere il video in cui scendi dal tetto con quella ragazza. E se volessi tornare a casa per irassarti, magari frequentare una scuola qui, la porta è sempre aperta. Baci papà. Grazie papà, è una follia qui, ma non sono ancora pronta a tornare a casa. A più tardi, baci Max. Allora, cosa possiamo fare? Questo mi ci fa parlare, ma non ci interessa. Ok, stiamo rientrati al ristorante. Stanno prendendo un altro spuntino, ma mi stavano le chiavi di Frank, già. Warren. Ok, ufficialmente tutto esaurito. Sono riuscito a prendere due biglietti per noi. Ho dovuto affrontare una dozzina di bulli. Che nerd. E Max non risponde. C'è Nathan, ragazzi. Cosa faccio? Ci parlo? Nathan e Frank assieme. Bruta combo. Già. Dov'è Frank? Parliamoci, è l'unica... Come fai a capire che sono vestiti di Rachel? Prendi le chiavi e facciamo un salto nel tuo campo. Insomma, niente chiavi, Max. Magari dovrei parlare con quella gente o con Nathan e poi passare la modalità. Mi comincio da capo fino a che andranno tutte le informazioni che mi servono. Oh, parliamo prima con Nathan. Vediamo che succede. Oh, guarda, Max Amber. Quase sei diventata panchettara. Considerato che siamo in un dinner con un poliziotto per il direttore di me, non dovresti sbandierare quanto sei arrabbiato e presco. Parliamo di Kate. Immagino che sperassi che Kate Marsh se ne stesse zitta. Vai, drogata. E' un testa di cazzo. Calmati, cavolo. Siamo nel dinner. Ma non è lesbica. Ora c'è la Franca, vediamo. Siccome metto che Franca ha dato dei fornimenti per le feste a terra, c'è... Anche no. Dubito. Cos'è questa informazione che aveva in Frank? Agente Barry. Holy shit. Droga in vendita, vediamo. Ascolta Nathan, mi rimangio tutto quello che ho detto. Su di te se mi fai rifornire da Frank. Capisci cosa voglio dire? E com'è che ti sia svegliata tutta la notte a studiare? Ci stai o no? Prima parliamo col poliziotto? Sì, parliamo col poliziotto. Sì, tutto merito mio. Grazie, agente Barry. Ero solo nel posto giusto, al momento giusto. E' Kate quella che conta. Secondo Nathan, è Rachel Amber a rappresentare la Blackwell, assieme a Frank Bowers. Eh, sì. No, il cane è bravo. Ho sentito voci su Frank Bowers. E il suo cucciolone. Vuole molto bene il suo cane. Oh, come ti permetti? Oddio, ci credo. Dove l'ha trovato? Dove l'ha trovato? Parliamo dei cani salvati. Ti atteggi da duro, ma hai salvato tutti quei cani. È davvero una bellissima storia. Sei un amante degli animali. Posso accreditare il tuo cane? Se vuoi vado a prenderlo adesso, non il tuo canpe. Cazzo, ci ha sgamato. Cazzo, ci ha sgamato. Cazzo, ci ha sgamato. Inizia che devo prendere le tue chiavi, stronzo. Cosa posso fare per prendere le chiavi? Ah, l'abbiamo presa? Perfetto. Non mi sono accortato di nulla. Vittoria. Sei un tale emo di merda da non volere. Che nessuno andasse con lui a SF. Sei una piscia sotto. Non riesci nemmeno a consegnare le tue banali selfie di merda per un semplice concorso. Sempre Max, 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 Max. Perfino nella sceneggiatura sul tetto era più un modo per mettersi in mostra piuttosto che per salvare Kate. Fare in modo che nessuno alla Blackwell si faccia fregare da quell'atteggiamento povera Max. Preparati. Che cazzo vuole? Alissa, attenta! Che prontezza, Max. Che c'è mancato poco, Alissa. Che c'è la seconda volta che mi ha salvato, Max? Grazie. Non ringraziermi, non ho fatto niente di speciale. Grazie a Dio è scesa da lì. Kate è una brava persona, è mia amica. Ed è stata quasi uccisa da un video. È davvero un casino, ma tu sei un'amica fantastica. Oh sì. Sono d'accordo con te. Sì. Grande, Alissa. Sono d'accordo. Torniamo da Chloe. Eccola qua. Devo immaginarlo. Non ce l'abbiamo fatta senza freg. Entriamo e diamoci la mossa. Ok. Nel parcheggio. Spero non gli succeda niente. Ok, allora. Apriamo. Ragazzi, questo episodio di Liss l'ho diviso in più parti, quindi sarò vestito in modo diverso quando farò l'apertura, la chiusura, insomma, sarò tutto diverso, perché l'ho diviso in più parti, quindi ci vedrete qualcosa di strano. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un bel like, commentate qua sotto, condividete il video e iscrivetevi al canale. Ciao!